gentili telespettatori buona giornata il ormai famoso chef rubio più che per i piatti che cucina è famoso per le aggressioni e gli insulti a salvini che gli hanno portato una certa notorietà inizialmente e anche contratti televisivi lui era uno di quelli che aveva capito che insultando l'uomo del momento matteo salvini mediaticamente potentissimo la persona che ha più articoli più video e che è più chiacchierata non solo in italia ma nel mondo alcuni giornali molto prestigiosi lo davano come una delle persone più influenti nel mondo e alcuni lo davano come la persona più influente del pianeta lui aveva capito che insultando salvini avrebbe comunque avuto un riscontro e a continuato giorno dopo giorno salvini ogni tanto ha risposto la maggior parte delle volte non ha risposto e si è accorto proprio settimana scorsa ha continuato per due volte consecutive a fare degli insulti che ormai non fanno più storia non fanno più perché dice sempre le stesse cose e mostro fascista ma ormai non ha più neanche delle motivazioni neanche lontanamente minime quindi c'è da dire che molti sono rimasti delusi dei suoi fans perché lui aveva dei fans perché come uno dei tanti anti salvini aveva dei fans che lo seguivano e inneggiavano all'insultatore l'insultatore con questo come dicevamo ha ottenuto anche dei programmi televisivi anche su discovery channel e lui utilizzava appunto internet per l'insulto c'è stato poi anche un governatore se non sbaglio il governatore del veneto che aveva chiesto a chiunque gli desse lavoro di licenziarlo lavoro in televisione perché aveva superato ogni limite addirittura per questa smania di avere titoli e si era messo anche a insultare i poliziotti uccisi carabinieri uccisi aveva anche insultato gli abitanti di pantelleria quindi dandogli dei mafiosi quindi per avere titoli alzava sempre di più la posta dell'insulto fino a quando è arrivato un momento che la parabola è diventata non più ascendente ma discendente quindi adesso anche il canale televisivo lo ha licenziato discovery channel lo ha licenziato perché i suoi ascolti sono diminuiti di meno della metà è partito con un certo numero di ascoltatori e trasmissione dopo trasmissione discendeva scendeva scendeva fino a che è arrivato al 35% addirittura dell'ascolto delle prime puntate voi sapete che quando si contratta una persona la si paga in base alle pubblicità che riceve la trasmissione come si pagano le pubblicità l'auditel dice quella trasmissione l'hanno visto in 500.000 la pubblicità si paga una certa cifra l'hanno visto 20 milioni la pubblicità si paga 20 volte di più quindi c'è una parte fissa nelle pubblicità più una parte variabile che è quella in base agli ascolti che riceve quindi quando hanno cominciato questa trasmissione con lui lo hanno ingaggiato attenzione non c'è solo l'ingaggio del conduttore c'è tutto quello intorno lo studio televisivo i tecnici la luce tutto tutto quello che costa un programma e se le pubblicità non sono consistenti e non riescono neanche a eguagliare i costi di gestione a quel punto come succede anche in RAI e in Mediaset i programmi vi è capitato qualche volta qualche programma che vi piaceva all'improvviso viene cancellato senza dire niente sparito e questo succede voi dite ma come era un bel programma magari era un bel programma per voi ma non lo guardava quasi nessuno e quindi questa è la logica delle pubblicità quindi la voce che fosse stato licenziato Chef Rubio è esplosa sul web è stata condivisa migliaia di volte e questo lo ha detto perché ancora non c'è stata nessuna dichiarazione ufficiale di Discovery Channel e neanche nessuna dichiarazione ufficiale dello Chef Rubio ma lo dice questo è Dominic Antognoni lui che è un noto critico che ha lanciato la bomba nel suo blog ripresa poi centinaia di volte attraverso i social poi diventata una notizia e Antognoni dice Chef Rubio è stato amorevolmente accompagnato alla porta da Discovery Channel so anche il nome del sostituto però una notizia buona alla volta oggi godiamoci questa Cin Cin comunque al suo posto ci va un vero e proprio Chef attenzione quindi da quello che leggiamo apprendiamo che non è stata sospesa o cancellata la trasmissione è stato proprio cambiato lui quindi proprio per una scelta etica e morale un insultatore di questo calibro è meglio allontanarlo fa più danno che un beneficio per qualunque televisione Chef Rubio attualmente è impegnato nella sua storica trasmissione Unti e Bisunti che ha un buon riscontro di pubblico come dicevamo il suo territorio di rivolta sono i social network dove i suoi post esprime spesso le sue opinioni in maniera aggressiva offensiva e soprattutto dicevamo contro Matteo Salvini perché è una cassa di risonanza enorme e hanno destato clamore le sue parole contro i poliziotti barbaramente uccisi all'interno della questura di Trieste da un extracomunitario nel mirino dello Chef è sempre più oratore politico che cuoco anche il comportamento degli italiani a suo dire pecora tricolore del diabolico e mafioso pastore come ha scritto in un tweet proprio qualche tempo fa adesso vi leggo questo tweet e lo commentiamo dice e dopo essersi sfogato col gioco del pallone e aver assistito alla fucilazione il mite italiano torna alla sua vita bisbigli, sospiri e mesta accettazione della triste condizione pecora tricolore dal diabolico e mafioso pastore tutti uniti nel nome della gloriosa nazione e poi c'è una sua foto plastica messo lì così ma si capisce che è quel che è attenzione dopo essersi sfogato col gioco del pallone potrebbe essere Conte quando è andato a palleggiare in Umbria vi ricordate dal milionare dato lì a fare i 15 palleggi con applausi potrebbe essere riferito a Conte e dopo aver assistito alla fucilazione il mite italiano torna alla sua vita la fucilazione potrebbe essere l'ilva potrebbe essere la perdita dell'Umbria poi dice bisbigli, sospiri e mesta accettazione della triste condizione pecora tricolore è riferito agli italiani del diabolico e mafioso pastore chi è il diabolico e mafioso pastore? potrebbe essere riferito al presidente del consiglio perché il pastore chi è? è il capo del grege e il capo del governo è Giuseppe Conte o il mafioso pastore potrebbe essere indicato Salvini come capo del partito che ha più voti tutti uniti nel nome della gloriosa nazione però non stiamo qui a parafrasare i poemi di Chef Rubio come se fosse Manzoni come se stessimo leggendo il paradiso di Dante cercando di interpretare ogni frase perché probabilmente così gli diamo più importanza di quella che gli si deve dare ma sul web sono più le persone che lo vedono come un personaggio negativo e non adeguatamente informato che è una persona positiva ed è proprio questo che Discovery Channel ha notato, rilevato e lo ha comunque licenziato molti dicono ad esempio qualcuno ti hanno scaricato quanto mi dispiace adesso il tuo bambino ha forma di mortazza come lo mantieni sono addolorato e mi dispiace molto con sarcasmo un altro utente scrive il cuoco sputa veleno è stato licenziato un altro dice ottima notizia anche se ora farà la vittima da censura e griderà al complotto chissà e un altro dice chissà se adesso farà domanda per il reddito di cittadinanza sono alcuni di tweet sul suo presunto allontanamento perché come dicevamo al momento né Rubio né Discovery Channel hanno voluto commentare la notizia appunto e vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale Tele Italia siamo anche su Facebook Tele Italia Notizie li trovate tutti gli stessi video che ci sono su Youtube li potete assolutamente condividere con parenti e amici conoscenti condividere in Whatsapp dove volete assolutamente è permesso vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buona giornata arrivederci